Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Pochi fiocchi di neve e la rete elettrica dell'Alteripinia va in tilt. E' accaduto giovedì come tante innumerevoli altre volte. Il direttore della EMA di Monra de Sanctis, Otello Natale, ha rilasciato al mattino la seguente dichiarazione. Mi sento molto a disagio quando devo spiegare ai nostri clienti all'estero che qui da noi basta il cedimento di un palo elettrico per bloccare la produzione di un gruppo invidiato nel mondo per la qualità della ricerca e dell'innovazione. Cosa dire? Nessuna meraviglia che ciò accada se in convintursti il Pina, invece di denunciare la fadiscenza dei pali elettrici, ci sono quelli che preferiscono fare i pali elettorali di qualche politico di caduta. Grazie.